Lei adesso rimane all'ascolto e Massaro gli risponde subito. Innanzitutto grazie per la domanda e la mia risposta è molto semplice. Dal primo momento in cui mi sono insediato come capogruppo di Forza Italia del Municipio ho deciso di occuparmi specificamente delle periferie del territorio perché noi siamo convinti che ripartiamo dalle periferie, non sia solamente uno slogan, non debba essere solamente uno slogan, ma qualcosa di concreto. E allora sul quadrante Massimina Casallumbroso noi stiamo lavorando, penso anche al già consigliere Bisenti con il quale stiamo facendo un lavoro di un certo tipo per monitorare tutte quelle criticità e ce ne sono molte purtroppo, soprattutto come mancanza di servizi direi essenziali per quanto riguarda la vita quotidiana delle periferie, dei cittadini delle periferie e quindi stiamo facendo un lavoro per monitorare quelle che sono le situazioni e aggiungo ci sono anche delle istanze che stanno provenendo dal territorio dei cittadini e che stanno arrivando anche all'attenzione della Commissione dei Lavori Pubblici e della Commissione Periferie del Municipio XII per fare in modo di riqualificare le periferie e aggiungo un elemento. Da Vice Presidente della Commissione Cultura del Municipio ho posto un elemento come cardine di questa azione politica e cioè il fatto che anche nelle periferie dobbiamo portare gli eventi culturali, turistici perché questo è il modo migliore per riqualificare da una parte un territorio senza dover costringere i cittadini a raggiungere le zone centrali della città. Loro devono avere il diritto non solo di avere un municipio in periferia che abbia strade ben manutenute, i servizi essenziali, le scuole.